cominciamo a fecire eh te l'ho detto vai 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 non ti fermare salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video stamattina siamo un viaggio per un mini raduno con tutti i ragazzi del gruppo siamo in direzione fuori grotta per recuperare gli altri e poi destinazione idri adesso recuperiamo gli altri e partiamo la fula la fula a few moments later oh magari si reprime felice ma non ho trovato una pompa di benzina aperta la cisco oggi siamo ragazzi partiamo per questa domenica alternativa non ho trovato non ho trovato un'eternità più tardi ecco l'au cominciamo a fischia ecco l'ai il viaggio in autostrada sarà lungo quindi ragazzi ci sentiamo dopo no no te ne provo proprio dietro la sella ci siamo ci siamo va bene ok no 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 ma chi si è fermato a fare benzina? si è fermato a fare benzina? ah si è fermato a fare benzina no 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 Grazie a tutti. 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 Un bacio. Grazie a tutti.